Il Natale è una festa di luce e di speranza ed è una festa in cui è importante ricordarsi di tutte le persone che hanno o che avranno bisogno. Per questo è stata organizzata a Fossano la camminata dei Babbi Natale, un po' per fare festa ma soprattutto per raccogliere fondi a favore della Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro. Ed hanno invaso la città ai tanti Babbi Natale, le renne che tiravano la slitta della solidarietà che lungo il percorso hanno raccolto offerte destinate al centro di Candiolo. La ricerca sul cancro sta andando avanti veramente molto, infatti praticamente pensiamo che la generazione dopo la nostra sarà chiaramente protetta da questo. Noi 30 anni fa abbiamo deciso di costruire l'istituto di Candiolo dove c'è ricerca e cura contemporaneamente perché il Piemonte non aveva nulla. Adesso tutto funziona alla grande grazie alla solidarietà di tutti e all'impegno di tutte queste persone che così si divertono e collaborano con noi. La ricerca di Candiolo va avanti benissimo in quanto ti dico in Europa ci sono stati 90 premi per ricerche importanti, 4 erano italiane e 2 erano di Candiolo. Come si sta con il cappello di Babbi Natale in testa? Bene. Ma voi lo sapete che fate un regalo grande mettendo i vestiti? Sì! Facciamo partecipiamo alla passeggiata di Babbi Natale per fare la ricerca del cancro. Buon Natale!